Quanti giorni fa, dopo aver terminato le video-lezioni in DAD, mi sono imbattuta su un aforismo dedicato allo sport. Per uno sportivo è difficile capire quando è il momento di smettere. Io non ho avuto il tempo di prendere una decisione. Questa frase venne scritta da un nuotatore, Domenico Fioravanti, al quale poco dopo aver vinto l'oro nei 100 e 200 metri a rana negli olimpedi di Sidney del 2000, venne diagnosticato un'ipertrofia cardiaca che lo costrinzi a smettere di gareggiare. Ci sono sportivi che non riescono a gareggiare per motivi più grandi del loro ego. E altre volte ci sono sportivi che non potrebbero gareggiare ma hanno una forza disumana. Ho letto molti articoli in cui si parlava di atleti che non possono utilizzare gli arti inferiori o superiori. Ragazzi con problemi, ragazzi gay, con il colore della pelle diversa dalla nostra, che sono stati esclusi perché considerati diversi. Sono stati giudicati perché un ragazzo con problemi non può fare nulla. Penso che questo sia l'idealismo che per tanti anni ci siamo imposti, o che almeno ci hanno imposto. Vi svelerò un segreto. Le persone che ci circondano, gli amici o i conoscenti, spesso influiscono sul nostro modo di pensare. Ma noi siamo ancora in tempo per cambiare le cose.